Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono DannyQ94. In questi ultimi giorni ci sono stati due streaming e abbiamo visto parecchie cose interessanti. Ma prima di tutto fermiamoci un attimo a parlare di una cosa. Ricordate il mio ultimo video dove appunto WorldCultureGaming, SuperGT e altri youtubers che hanno presenziato un evento di Londra gestito da Activision riguardante CTR NitroFueled avevano parlato della presenza delle piste di CTR? Ebbene dopo due giorni che hanno lottato contro l'intera fanbase cercando di avvalorare le loro parole, di punto in bianco iniziano a dire ah no ci siamo sbagliati, non ci sono le piste di CTR. E' stato un errore nostro. D'accordo, molto probabilmente è così per ora perché non si sa mai magari in un DLC futuro. Però voglio ricordarvi che una cosa simile è successa nel 2016 quando ancora non sapevamo neppure che Crash sarebbe tornato. E' perché un evento precedente alle 3 del 2016. Un lavoratore di Nekatoys, Nekatoys sarebbe un'azienda che crea Action Figure di cui comunque si è occupata di Crash dopo l'uscita di Ensign Trilogy, dichiarò di esser venuto a conoscenza del ritorno di Crash Bandicoot ben due anni prima del rilascio di Ensign Trilogy. Questo ha letteralmente distrutto il web, salvo poi pararsi il culo dicendo no scusatemi ragazzi avevo visto una finta copertina di Crash Bandicoot realizzata da un fan per PS4 e da lì ho pensato che potesse essere una copertina reale, un annuncio reale, cosa che invece non è stata. Questa qui è la copertina che vide il lavoratore di Nekatoys. Ora secondo voi a chi crede non di prendere per il culo. Per l'appunto secondo me questa cosa si sta riproponendo anche con le piste di CTTR dei personaggi di CTTR in Nitrofield dove praticamente il brand manager colui che ha detto del contenuto di CTTR in CTTR Nitrofield all'evento di Londra ha detto un qualcosa che molto probabilmente non doveva essere detto in quel momento. E quindi Activision è corso ai ripari troppo tardi dicendo agli youtubers che hanno presenziato a quell'evento di ritirare quello che avevano detto nel loro video dicendo che era semplicemente una svista, una svista loro. Siamo sempre nel territorio delle ipotesi e quindi abbiamo il beneficio del dubbio se ci saranno non ci saranno. Lo scopriremo soltanto vivendo, come diceva una famosa canzone. Quindi di per sé il mio penultimo video perché questo qui è l'ultimo video lo lascerò online più che altro a puro scopo speculativo. Il giorno dopo comunque ci sono stati due streaming dove hanno giocato una nuova versione di Nitrofield, una nuova versione della demo di Nitrofield dove possiamo vedere tantissime belle cose. Non andrò nel dettaglio perché le piste hanno un sacco di apparizioni che vanno viste con pad alla mano dove magari io giocherò e mi fermerò ogni tanto per farveli vedere uno a uno. Quindi per ora basiamoci soltanto su quello che abbiamo visto così sulla superficie. Nel primo gameplay dello streaming abbiamo visto finalmente Parcococo in tutta la sua bruttezza. Nonostante graficamente sia eccezionale questa pista come sempre non riesce a piacermi perché è semplicemente un giro in tondo e rende tutto quanto molto lento. Abbiamo avuto modo di vedere anche che c'è il busto normale, Inside Red Fire e il Blue Fire che dovrebbe essere il Saffi. Poi abbiamo visto il roster completo che va da Crash, Cortex fino a Zam e Zem. Ovviamente contando pentapinguino resta una riga di personaggi che dovrebbero andare a colmare una riga per l'appunto perché subito dopo Zem avremmo pentapinguino e per non lasciare appunto pentapinguino solo soletto mancherebbero altre quattro icone per formare il roster completo. Chi potrebbero essere? Beh potrebbe essere benissimo Velo Finto che è molto probabile che ci sarà primo perché è un personaggio giocabile in CNK per Game Boy Advance insieme ai boss di CNK ora giocabili. Secondo perché non avrebbe senso chiamare il vero Velo vero Velo a quest'ora se non ci fosse la versione finta di Velo dovrebbe chiamarsi semplicemente Velo e basta. Quindi immagino che ci sia Velo come certo e gli altri tre potrebbero essere Qualacong, Brio, Tauna, e Mo. Perché è molto più probabile questo? Andiamo a scoprirlo più avanti. Nel mentre possiamo comunque vedere che potrebbero anche inserire Qualacong, Brio, Tauna e Mo evitando così magari di mettere il finto Velo come personaggio a sé e metterlo come skin del vero reale. Siamo sempre nelle speculazioni però non possiamo saperlo del tutto ne sapremo di più nelle prossime settimane. Da notare comunque come tutte quante le icone siano fighissime. A un certo punto vediamo i vari tipi di kart, le varie modalità per cambiare tutto quanto e possiamo anche vedere finalmente Wumpa meccanica o anche Rocca Cortex. Rocca Cortex è interessante perché possiamo vedere Co Cortex, il travestimento di Gopo di Cortex e possiamo vedere anche Nitrus Brio e Nina che potremmo dare anche per certi come presenza. Per questo prima dicevo Nina, Von Clutch e Pasatina. Possiamo inoltre vedere il mirino della sfera Warp è diventato blu e possiamo vedere nel mentre anche la modalità caccia a cristallo in un arena. Da notare comunque come tutto quanto sia fighissimo. Possiamo vedere anche le diverse arena che sono tutte meravigliose, tutte graficamente spettacolari. Possiamo anche vedere la skin di Entrance che è vestito da Entrance che va a mare ma soprattutto il potenziamento dell'invisibilità se tu hai il kart di Oxide non riuscirai neanche a vedere le ruote e questo potrebbe essere un plus per noi ed un malus per gli avversari che non riuscirebbero neanche a vedere quel poco che rimane. Possiamo anche vedere il menu che comunque non è un menu definitivo perché manca anche l'avventura e meno male direi. Possiamo anche vedere le skin che sono tutte simpaticissime e anche i vari tipi di kart, tra cui appunto quelli di Tag Team Racing ma non tutti e i vari tipi di calcomania da mettere sulle auto. I vari tipi di ruote, da notare che ci sono anche le ruote di Tag Team Racing, i vari sticker, i vari colori per il kart rappresentati da una sfera che viene divisa per vedere le varie parti del kart e oltre agli sticker rappresentativi come la TNT, la Nitro, ci sono anche quelli della PlayStation esclusivi per l'appunto se si preordina il gioco o se si compra la versione PS4. Possiamo vedere tutte quante le scheme di Crash attualmente in circolazione, oltre ai vari color dove ci sarebbe la Iena Blue, Crash Puzzola e Crash Cagnolino Giapponese che non ricordo la razza. Si può vedere anche Crash Low Poly, Crash Aviatore, Space Crash, Crash con la tuta da sub e Crash Star. Ma non solo, possiamo anche vedere le skin di Tiny, dove c'è Tiny normale, Tiny color prugna, Tiny Gepardo che secondo me è un riferimento ad Hunter di Spyro, il generale Tiny che è un volutissimo riferimento al Tiny di Crash of the Titans e Tiny Quarterback, giocatore di rugby. Davvero davvero molto figo. Possiamo anche vedere Tiny bianco, un Tiny delle nevi che è da sbloccare. Oltre loro abbiamo potuto finalmente vedere i due Norm e Entrance che nonostante abbia il corpo che è completamente preso da quello di Nitro Kart, ovvero con tutte e due le braccia esili che tengono il Kart, la sua faccia è sprovvista di naso come in Entrance della sua prima apparizione perché in CNK per l'appunto Entrance beve il naso. Direi che per ora può bastare, nei prossimi giorni molto probabilmente avremo molte più cose di cui parlare e io sinceramente non vedo l'ora. Come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e vi invito a seguire la pagina facebook Crash Bandicoot Zone pagina italiana, la pagina instagram Crash Bandicoot Zone e di seguirci sul sito ufficiale crashzone.forumcommunity.net dove potrai iscriverti e parlare direttamente con noi fan di Crash di tutto quello che vuoi riguardante il mondo di Crash e di Spyro. Noi ci vediamo al prossimo video ragazzi e come sempre viva Crash